Salve a tutti amici e in questa puntata di XTV copriremo chi è meglio tra gli stranieri e gli italiani. Ciao a tutti e questa è XTV! Fida importantissima, gli stranieri contro... Io sono cinese! Sono giapponese! Contro le italiane! Italiane di Catania! Ragazzi mi dite perché essere stranieri è meglio! Cinese che schienese! A me no! O Catanese come vuole tu! Catanese no, a me! Cinese! Qual è il bello di essere cinese? Perchè? Perchè è molto gentile! Stai lì, 3 pacchetti 1 euro! Diciamo che la Cina è bella perché ti offre qualcosa... La Cina è grande! È grande! C'è lavoro! No, io no! Il treno è un pacchetto nero, Catanese lunghe un pacchetto nero, Cattarullo 1 euro 50, Cattapiltro 50 centesimi! Io sono nigeriano e diciamo che essere nigeriano vengo dall'Africa e ci sono tante cose, milioni di cose che si trova in Africa che non si trova qua. Sì, io l'ho visto e poi no! E parlo tante lingue! Essere italiani è meglio perché innanzitutto l'italiano si pronuncia per come si scrive, puoi parcheggiare in doppia fila, puoi prendere la rotonda a chi arriva prima, puoi passare con il rosso! No, no, no! Ti ho imbarato qua a una lezione bellissima perché abbiamo una persona che non è italiana a cui piace l'Italia e una persona che è italiana che fa un ritratto pessimo dell'Italia. Noi ti facciamo scambiare di posto, tu diventi straniera e lui diventi italiano! Non trogarai a chi LAN? Non troverai mai. Non troverai per farcNewsac!, Limbo! Al minimo nel limbo... En questo un lucro del limbo... Van a nascere Haliguerdo? En il tempo del limbo... Pace limbo rapido... Vano dei mal in limbo... En il tempo del limbo... Vano del limbo Да... Pasadelo un Europeans o i misspondi. ha vinto lui, è stato un grande hai vinto e bevi tre pacchettine è bello che sei italiani perché oh sole mio mi dipingevo le mani e la fascia di blu poi d'improvviso veniva il vento rapito e cominciava a volare è finito cantare come nostro tu mi c'era bacina, tu mi c'era sacchina tu mi amare gana, tu mi c'era gii buona batze benayar tu mi amare sud bhalo va sud bhalo tu mi assogacce pachi tu mi assogacce pachi tu mi assogacce pachi ma che è spagafolata sciocchino forza col sacco chi arriverà primo vince correre o morire siete pronti? via! tu mi assogacce pachi come i vecchi tempi the winner is lo straniero here we go Germania perché è meglio essere italiani? perché comunque noi siamo più calorose siamo più calienti diciamo beh gli stranieri hanno la mente più aperta secondo me no dipende dalla persona è relativo perché io onestamente preferisco molto di più uno responsabile anziché uno diciamo caliente ecco sì ma noi siamo più simpatiche noi battiamo sulla simpatia ok sì questo è vero concordo here we go canestro canestro che riuscirà a fare più canestri vince round one to pare hanno vinto le straniere abbiamo scoperto che non ha assolutamente importanza sei straniero o sei italiano perché in fondo apparteniamo tutti a un grande popolo l'umanità ciao a tutti a questa è XTV ciao a tutti